Allora telespettatori ben ritrovati in questo nuovo approfondimento che riguarda le case, le nostre case, ovvero le case green, sarebbero le case verdi, insomma sarebbero le case sempre più a norma e in questo caso nella norma rientrano anche le detrazioni edilizie e quindi magari qualche si spenderà da una parte ma si risparmia dall'altra. Con noi Marco Spera di Alac, buongiorno Spera, grazie per essere con noi e appunto ci racconta Marco questi che sono dare e avere dal punto di vista delle case green, da dove partiamo? Partiamo adesso dallo stato dell'arte, cioè da quello che in questo momento è in vigore, quindi il 28 maggio è entrata in vigore la direttiva case green che è stata approvata qualche mese fa dal Parlamento europeo. Questo vuol dire che dal 28 maggio 2024 i Paesi membri hanno due anni di tempo, quindi fino al maggio 2026, per recepire la direttiva nei propri ordinamenti. Ricordiamo brevemente cosa dice la direttiva in merito al risparmio energetico, cioè la direttiva pone degli obiettivi di un certo periodo, cioè nel 2030 un risparmio energetico rispetto a quello che era nel 2020 del 16%, quindi un 16% in meno rispetto a quello che era il valore del 2020 e poi nel 2035 questo valore dovrebbe salire dal 16 al 22%, quindi un progressivo miglioramento dell'efficienza energetica delle nostre abitazioni. Questo però viene a interagire con quelle che sono le trazioni edilizie, perché è evidente che di fronte a una spesa molto elevata che dovranno sostenere le famiglie italiane con riferimento appunto alla sistemazione, quindi alla ristrutturazione delle proprie abitazioni, non potrà mancare sicuramente l'agevolazione edilizia che in questi anni abbiamo sempre conosciuto nella forma della detrazione e aspetta al governo e ai governi in generale e agli Stati membri mettere in atto delle norme che facciano combaciare sia il necessario risparmio energetico, quindi la ristrutturazione, ma anche le finanze degli italiani perché giustamente bisogna fare un equilibrio. Noi dobbiamo controllare intanto qual è la classe cui appartiene il nostro appartamento? Allora sì, diciamo che la classe ha un'importanza sicuramente perché le classi peggiori in questo momento sono la G e la F, le classi energetiche peggiori, la migliore è la A, però la direttiva Casa Green non si sofferma tanto sulle classi energetiche ma fa proprio un discorso di risparmio diciamo percentualmente calcolato, quindi dice che bisogna risparmiare un 16% entro il 2030 rispetto a quello che era il consumo tra virgolette delle case nel 2020 e rispetto sempre al 2020 bisogna passare poi al 22% entro il 2035, quindi sicuramente la classe energetica ha una importanza notevole, lo vediamo già adesso perché nelle transazioni immobiliari che già avvengono in questo momento le classi energetiche G ed F subiscono una lieve penalizzazione dal punto di vista della valutazione di mercato. Ecco, ma dove si interviene? Quali sono le fonti dello spreco, le fonti sulle quali bisogna limitare il consumo? Eh beh, sono sempre le solite, sono diciamo le facciate, il tetto, tutte quelle strutture delle parti comuni, parlando di condomini, dove la dispersione energetica è maggiore, gli infissi, i seramenti, quindi diciamo le finestre, le persiane, ecco tutto quello che può peggiorare e la dispersione va rivisto, ristrutturato, comunque sistemato, questo ovviamente non è a costo zero e per questo intervengono le detrazioni per agevolare appunto le persone. Però spera, in un caseggiato di 10 appartamenti, 5 hanno gli infissi enormi, belli che si chiudono e altri 5 non ce l'hanno, hanno le vecchie finestre di legno. Si interviene su quelli, è che devo cambiare tutti gli infissi? No, diciamo che il risparmio si intende... Cioè poi si fa casa per casa. Si fa casa per casa sembra quasi una rettata. Sì, esatto. No, diciamo che... Cioè, io ho gli infissi, non io, ho gli infissi a norma, il mio vicino ha le vecchie finestre normali di legno e che li devo cambiare anche io. No, diciamo che quelli che hanno gli infissi a norma in pratica non dovranno ovviamente cambiare. Cioè, chi ha una casa che ha un risparmio energetico notevole, per esempio se uno ha una casa in classe A, ecco, non ha necessità di modificare. Ovviamente la modifica potrà riguardare invece quelle parti anche comuni del condominio dove invece queste situazioni non ci sono. sono, per esempio, le facciate e il tetto sono tra le parti comuni più interessate dalla possibile ristrutturazione. E il famoso cappotto? Perché tanti mi scrivono, nel senso, non mi dicono mai, però il cappotto mi ha aumentato l'umidità all'interno della casa, insomma mi scrivete sul cappotto cose preoccupanti. Il cappotto va innanzitutto fatto con materiali ottimi e in maniera a rigola d'arte, come tutti i lavori nelle case che prevedono ristrutturazione. il problema sarà magari minore, per esempio nei centri storici, dove è possibile che vengano apportate delle deroghe all'obbligo, perché strutturalmente alcune abitazioni nei centri storici, parliamo di Genova per esempio, è difficile mettere un cappotto in certe abitazioni del centro storico, per cui potranno esserci delle deroghe nel caso in cui tecnicamente il cappotto non sia installabile. L'Italia è un paese lungo, sono 1200 km, quindi quello che vale per la casa del nord dovrebbe valere anche per il sud, ma sono casi completamente diversi, in questo caso parliamo di un altro paese. Diciamo che l'Italia è divisa in zone climatiche, ovviamente ci sono zone climatiche che tengono conto del dato meteo di quelle zone, è chiaro che un'abitazione a Catania non ha lo stesso consumo di una a Bolzano piuttosto che a Trento, questo è chiaro. Quindi noi dovremo mettere mano al portafogli probabilmente, senza altro, questa è una bella notizia e sarà il governo quando uscirà dalle polemiche che tutti i giorni campeggiano in Parlamento, sarà poi il governo a stabilire, gli italiani spendete dei soldi ma dovremmo recuperarli in questo modo. Il governo dovrà predisporre un calendario per le abitazioni in Italia, deve farlo direi abbastanza rapidamente perché comunque il prossimo anno, 2025, è già un anno dove bisogna iniziare a mettere mano alle norme, soprattutto perché ci sono alcune in scadenza, altre verranno riviste, quindi ci dovrà essere un nuovo adeguamento delle norme edilizie in termini di risparmio, in termini di detrazione piuttosto che di agevolazioni diciamo in genere. Qual è la figura che determinerà questo? Che determinerà quanto sprechiamo, quanto dobbiamo recuperare, chi è che ce lo dirà? L'amministratore? Chi è che ce lo dirà? Sostanzialmente saranno i tecnici che interverranno nella valutazione dei lavori da fare sulla base appunto di un calcolo di consumo energetico dalla casa, di classe energetica dell'edificio direi più che della casa singola perché poi a questo punto il discorso passerà dalla singola all'edificio diciamo, per cui saranno assolutamente i tecnici che dovranno dire che cosa c'è bisogno di fare e come farlo. Ecco ma ci sarà su questo, lei parlava di tetti, per esempio una indicazione per mettere dei pannelli, aggiungere dei pannelli solari sui tetti visto che insomma la solarità o l'insolazione è importante già ai nostri livelli. È già previsto che ci sia diciamo e quindi il pannello solare potrebbe essere una delle diciamo chiavi per risolvere il problema del consumo energetico. Quindi anche quello potrebbe rientrare in questo. Quindi in sostanza dobbiamo prepararci a degli esborsi che riguarderanno poi queste voci principali che riguardano la dispersione. Gli esborsi saranno inevitabili diciamo, tutto sta a vedere quanto rimarrà diciamo a carico delle tasche del contribuente e quanto invece sarà lo Stato a predisporre agevolazioni, insomma ad azioni di denaro. Ci saranno nuovi bonus? È possibile, è probabile, è affaccabile anche oltre che probabile. Basta che non mettano in ginocchio come l'altro. Visto che l'esperienza l'abbiamo già fatta. Ci è costato quanto? Quanto è costato? Ci è stato direi parecchio. Tanto. L'esperienza è già stata fatta e mi auguro che come sempre si faccia tesoro di quello che è stato fatto per non commettere gli stessi errori e per comunque adeguare la norma a quelle che è comunque un'esigenza anche di non pesare troppo sulle tasche dell'italiano. Ecco noi ci fidiamo che in questo paese non si faccia esperienza sugli errori precedenti ma ne siamo convintissimi. Sì, noi siamo convinti e speriamo che avvenga. Sarebbe una cosa di buon senso al di là del fatto... Poi noi europei siamo così un po' mania, ci siamo a norma, 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 poi l'altra parte del mondo, per carità... Sarà sempre più così nel senso che comunque Cina, India e altri paesi non hanno questa sensibilità verso il green e gli stessi Stati Uniti diciamo tranne la California che è un caso a parte non hanno questa sensibilità e quindi ci troviamo poi alla fine a essere gli unici che vogliono salvare tra virgolette il pianeta. Non so se riusciremo ma... No, volevo dare delle notizie ai nostri telespettatori, ci aspetto un periodo un po' così. No, si tratta soltanto senza fare inutili allarmismi di stare in campana, come si dice, stare un po' attenti alle norme che usciranno sicuramente da qua ai prossimi mesi. Ricordiamo che a dicembre c'è la legge di stabilità che è già un primo banco di prova e comunque sicuramente in quella sede un intervento sarà auspicabile per tanti motivi. Allora, senta, è suonato il... Segniamo il telefono, normalmente su questo tema, eh, tra gli spettatori, il termine del condominiale. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Cirole. Buongiorno. Mi scusi. Prego. Sono Severina. Volevo intervenire così con le case bride, perché tempo fa avevo letto una cosa che mi aveva anche allarmato. Eh. In questo senso che sicuramente molte persone non avranno nemmeno da dare un piccolo anticipo per mettere le case a norma. Quindi, ho letto che sono già pronti dei gruppi, delle multinazionali, adesso non so come chiamare, pronti a intervenire in questo senso, che verranno a comprare le nostre case, le dovremo svendere a loro, loro ce le compreranno a un prezzo bassissimo, noi potremo ristare nella nostra casa pagando un affitto. Ho capito. Allora, beh, è un meccanismo, ha una sua coerenza. È orrendo quello che potrebbe accadere, è terribile, però ha una sua coerenza. Ha una sua coerenza, mi auguro che comunque il governo, visto che poi deve intervenire, lo faccia anche in un'ottica di non favorire speculazioni che dovessero pervenire da multinazionali, estere o da qualunque parte provengano. Mi auguro proprio che dove ci siano delle difficoltà a anticipare dei soldi, intervenga con delle norme agevolative. Potrebbe per esempio essere una di queste, lo sconto in fattura, piuttosto che la cessione del credito, magari pensato in una maniera un pochino più... Sarebbero degli aguzzini, ecco, sarebbero degli apprenditori. Non accadano e non deve accadere. Certo, però la domanda intelligente della nostra severia. Sai che c'è un'altra telefonata su questo tema? È pronto o buongiorno? Buongiorno, buongiorno il generale. Buongiorno, buongiorno. Dica. Io sono il telefono da Casarza Ligure, sono Giorgio. Sì, Giorgio. Parlate di Green, ma ci sono aerei che passano continuamente e che scaricano un'està di misura. Sì. Le navi, quella nave da crociera che è carbone per portare le navi di turismo. E dico, cosa salviamo? L'ambiente, vabbè, sì. Da una parte le case ci blindiamo per non consumare e poi ci sono altre fonti di inquinamento. Noi siamo dalla parte... Ahimè. Non so se dei più buoni o dei più deboli. Siamo il famoso vaso di coccio. Ah, il vaso di coccio. Con Manzoni, questa citazione per San Giuliano direbbe una citazione di Dante, però è Manzoni. Allora, Marco Spera, grazie, un saluto ad Alac che ci aiuta sempre in questi frangenti, buone cose. E rivedrete poi tutto sul nostro sito. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.